Quanto è bello fare le cose per ispirazione. Viene un'idea ad una persona e quella persona inizia a compiere quell'azione che desidera, che anela, che gli viene naturale e la porta in manifestazione, la porta sul piano dove può essere utilizzata da altri esseri umani. Ecco, nel campo della spiritualità c'è questa bivalenza. Ci sono quelli che fanno parte della corrente prettamente spirituale dove lo spirito, l'anima, è l'unica cosa vera che esista e dove tutto quello che è materiale, tutto quello che è anche ego, razionalità, logica, viene rifiutato. In questa visione unilaterale della realtà c'è un'esaltazione, c'è una separazione proprio. è paradossale perché si va a parlare di anima, di spirito, che alla fine è l'anima che entrando in un corpo crea il corpo, è l'anima che sceglie di avere un ego all'interno del corpo. Ed è paradossale entrare in conflitto con quello che è una parte della nostra essenza. L'essere umano, secondo me, deve capire che non deve entrare in conflitto con se stesso. Non ha importanza il fatto di avere o non avere un ego. È molto importante avere un ego molto sviluppato e far sì che quando si è piccoli questo ego, soprattutto i bambini, venga fatto sviluppare. Perché un bambino senza il senso del possesso nascerà, crescerà e diventerà un essere umano che non sarà integro nel proprio interno. Il bambino ha bisogno di sviluppare un ego, così come il senso del possesso, il senso di appartenenza ad un gruppo, un gruppo familiare, un gruppo di amici, per far sì che dopo, successivamente, quando la maturità mentale, intellettuale, emozionale, animica, arriverà al suo completo sviluppo, allora in quel momento lì, il bambino da solo, attraverso il suo processo di lavoro interiore, riuscirà a trascendere quello che in precedenza ha sviluppato come senso del possesso, senso di appartenenza. Ma non si può prescindere da questo. È inutile combattere contro cose che al nostro interno abitano. È inutile combattere contro il nostro ego, è inutile combattere contro quella che è la materialità. Perché, com'è il titolo di questo video, l'ispirazione, si collega benissimo con l'aspetto materiale. Paradossalmente, se non avessi una telecamera, se non avessi un microfono, se non avessi questi strumenti, che sono prettamente materiali, se non esistesse Facebook, la tecnologia, questi documenti stessi, non riuscirebbero ad esistere. E non riuscirebbero le persone, in giro per il mondo, in giro per l'Italia, ad ascoltare quello che una persona, in questo caso me, condivide attraverso questi strumenti. Quindi fino a che punto è sbagliata la materia? Fino a che punto è sbagliata la mente razionale? E' grazie alla mente razionale che io sto trasformando un messaggio di ispirazione attraverso le parole, e attraverso la mente ordinaria, che tanto bombardiamo di negativo, che si riescono a compiere quelle azioni nella materia, che possono portare aiuto ad altre anime. E qui è il paradosso, perché anima e materia si compenetrano. Spirito e materia si compenetrano creando un'anima, e quell'anima, che è il mediatore tra spirito e materia, porterà la coscienza all'interno della materia stessa. E' l'anima che modella la materia, e' l'anima che crea un ego. E quindi perché combattere qualcosa che noi stessi, come coscienze incarnate, abbiamo creato? E' uno strumento. Invece di combattere qualcosa, bisogna imparare ad utilizzare quella cosa a nostro vantaggio, a vantaggio di quello che è l'individuo. E' normale essere più protesi verso il combattere l'ego. Perché? Perché l'ego è circondato, è vissuto nel mondo in cui viviamo, con un'accezione negativa. Ed è vero questo, inutile dire che non sia vero. L'ego è accostato al possesso, alla negatività, al voler prevaricare l'altro, alla competizione. Ecco, in questi casi qui, l'ego va osservato, va accettato, e va trasceso, e non va combattuto. Perché senza un ego, l'anima non può svilupparsi. Non si arriva prima all'illuminazione, se ho soppiantato quella che è la mia mente, anche razionale. E' uno strumento che va conosciuto, e una volta conosciuto, sarà il mio servizio. L'illuminazione non può essere cercata, se non si sono fatti i passi necessari, per portare consapevolezza, e ampliezza nel nostro modo di vedere anche il mondo. Siamo qui per questo motivo, non per rifiutare una situazione o qualcosa che ci appartiene, ma per imparare ad utilizzarla, per i nostri fini. Sarà il mio fine, se positivo o negativo, a dare un'accezione positiva o negativa a quella che è la mia missione, a quello che sarà il mio ego in quel caso. Ma combatterlo non ha senso. Grazie.